Ciao a tutti, buonasera, finalmente un po' di calore umano in queste dirette che in genere sono qua, mi sovrasta il nostro Roberto Gatto, eccolo qua, che è tornato dopo una meravigliosa, ormai passata la storia, puntata di Drummers Corner che è l'unica con i musicisti, quindi vuol dire sei comunque un... ti abbiamo trattato. Quindi torna qua con un evento particolare che doveva essere soltanto in presenza qua, però probabilmente siamo stati subissati da richieste e da minacce di amici in tutta Italia e quindi abbiamo deciso di fare questa diretta improvvisata. Logicamente la qualità audio non potrà essere quella del Drummers Corner, ma comunque il nostro buon Frenchi all'audio e Valerio alle riprese faranno l'impossibile per far arrivare in ogni dove questa testimonianza di un grande artista, diciamo un vanto della batteria in Italia che ci rappresenta in tutto il mondo e che finalmente ha dato alle stampe questa opera omnia, dove parte logicamente del suo sapere. Roberto oltre ad essere un grande batterista è un grande cultore della batteria, dello strumento, dei marchi, dei modelli, dei piatti e quindi in questa occasione ho voluto dare respiro anche alla mia piccola collezione qui dietro ma anche un po' per farlo rosicare perché ogni volta che ci vediamo si vuole piacere questi piatti io gli ho messi qua così fanno compagnia che sono i miei Ziljan Istanbul, quelli veri, quelli là che io ce li ho e oggi fanno qui compagnia a Roberto. Abbiamo qua anche un po' di amici che potranno quando Roberto ci dirà fare intervenire, fare delle domande, delle cose e logicamente essendo in diretta molti vedranno questa cosa dopo, però per chi è in diretta io dopo mi sposto, abbandono Roberto qua e potrete fare tutte le domande che volete sulla pagina dell'evento qui e io le rivolgerò a Roberto. Potete anche mandarle su whatsapp, mano a mano entrerà della gente quindi ogni tanto vedrete che arrivano dei raggi di luce perché arrivano dei nuovi ospiti che si prendono il cuscino là dentro e si siedono a terra che abbiamo fatto una cosa un po' tipo che è stato raduno anni 70 e niente, quindi buon divertimento, lascio la parola al mio amico Roberto e sicuramente saremo molto arricchiti da questo incontro. Vi ricordo che a giorni, giusto una comunicazione di servizio, uscirà finalmente il nuovo sito di acustica e che potrete rivedere questa puntata come tutte le cose che noi facciamo anche sul nostro canale YouTube e così. Va bene? Buon divertimento Roberto, a te la parola, ti lascio con il palco. Grazie. Leopoldo, il numero uno, un applauso ancora a Leopoldo perché è riuscito a mettere in piedi questa meravigliosa realtà di queste dirette fantastiche, io ho già partecipato a una di queste appunto questo Drummer Corners e è stato un piacere potergli chiedere e poter essere accolto qui appunto per presentare questo libro, quindi sarà una cosa un po' riferita a questo lavoro che ho fatto e che sta fortunatamente avendo un successo, non dico inaspettato, però insomma oltre quello che mi sarei aspettato, nel senso che già la terza ristampa, forse anche la quarta, non so. Che cosa c'è in questo libro? Per chi già lo avesse, comunque già in qualche modo lo sa, ma sicuramente alcuni ancora non ce l'hanno e è un po' una dedica e un omaggio appunto a questo strumento, più che appunto a un aspetto solo legato alla didattica, è veramente un atto d'amore per il mio strumento e una raccolta di storie in larga parte diciamo c'è anche un appendice didattica alla fine che comunque riguarda quelli che sono un po' più abituati ad avere a che fare con dei metodi più tradizionali anche se questo non lo è in realtà, io dico sempre questo è un libro, non libro, un metodo, non metodo, non so, ma è tutto e niente, nel senso c'è qualsiasi cosa diciamo che è un libro di letteratura batteristica più che altro, non voglio diciamo allargarmi in definizioni però comunque sì, direi che in larga parte la cosa che la gente che l'ho acquistato ha riscontrato appunto è aver avuto tutte queste informazioni comunque utili secondo il mio punto di vista a chi poi si deve a chi deve intraprendere lo studio della batteria jazz quello che ho scritto deriva anche dal fatto che molti di questi argomenti che tratto li ho potuti in qualche modo discutere anche quando insegno, io insegno in conservatorio da diversi anni, ormai quasi da dieci faccio masterclass, vado in giro, insomma parlo con la gente, parlo con i ragazzi, parlo con gli allievi e spesso vedo che mancano come dire, delle indicazioni importanti anche abbastanza semplici a volte per cercare di capire meglio come suonare questa musica in generale come suonare tutta la musica perché comunque è un libro riferito sicuramente al jazz, si chiama Jazz Drum Book però comunque riguarda tanti aspetti anche al di fuori del jazz proprio al rapporto che la batteria deve avere all'interno della musica sempre che questo sia appunto un fatto fondamentale per me lo è, nel senso che il ruolo del batterista in larga parte come spiego nel libro è quello di dare un servizio diciamo ideale questo sia nel campo del jazz ma anche nel campo del pop, del rock in qualsiasi musica diciamo il ruolo del batterista ha a che fare con avere un approccio giusto nell'accompagnamento in larga parte infatti uno dei sottotitoli del libro è proprio comping il comping riguarda tutta quella parte che in percentuale noi facciamo di più la parte solistica è molto importante nella batteria ne abbiamo degli esempi come dire eclatanti fin troppo addirittura secondo me perché poi alla fine diventa uno strumento che esce un po' fuori dal vero significato che ha questo strumento e come nasce cioè nasce all'interno della sezione ritmica insieme al contrabbasso della batteria il basso elettrico, la batteria e il pianoforte la chitarra a volte che comunque devono svolgere un lavoro appunto ideale e devono cercare di dare un supporto utile allo sviluppo appunto della musica stessa chi riesce ad avere queste caratteristiche poi alla fine fa un po' la differenza e questo lo vediamo anche nel campo del pop abbiamo visto nel campo del rock dei grandi sessionman e anche dei batteristi passati alla storia per aver appunto lavorato molto su questo aspetto l'aspetto del comping l'aspetto del cosiddetto groove anche se mi sta abbastanza antipatica questa espressione, questo modo di definire appunto quello che ha a che fare con portare bene il tempo in pratica però il groove è importante così nel jazz come nel pop nel rock in qualsiasi campo insomma noi andiamo a vedere che l'aspetto del groove quindi dell'accompagnamento è determinante gli altri sottotitoli sono il suono e il phrasing questi due li ho scritti in inglese perché in realtà appartengono un po' a un linguaggio universale non perché ho voluto fare l'americano ma perché comping e phrasing appunto si usano anche nel nostro linguaggio qui appunto sono individuabili come due l'accompagnamento e il fraseggio comping e phrasing e il suono il suono l'ho scritto in italiano suono, comping e phrasing allora perché queste tre perché ho appunto scelto questo questo sottotitolo questi tre sottotitoli perché sono tre cose fondamentali tutte partendo proprio dal suono nel jazz in particolare ma così anche appunto in altri generi musicali il suono è uno dei biglietti da visita appunto uno dei segnali più importanti che un musicista un batterista non solo un batterista ma qualsiasi strumentista deve riuscire a rappresentare al meglio mi viene in mente spesso faccio dei paralleli con altri strumentisti o addirittura con dei cantanti cioè Frank Sinatra è passata la storia per cantare benissimo ma soprattutto per il suo timbro di voce per il suono Billie Holiday nel campo del jazz Chad Becker per il suono della sua tromba Coltrane per il suono del sassofono cioè ognuno di questi grandi musicisti ha avuto un forte una forte riconoscibilità attraverso il suono e nella batteria non succede esattamente la stessa cosa se pensiamo appunto al suono di Elvin Jones al suono di Billy Higgins al suono di Philly Joe Jones ognuno di questi batteristi ma ne potrei citare tantissimi altri ha su tutti proprio ecco spicca questa questione del suono che esce dallo strumento il suono ha a che fare con tante cose ha a che fare con con l'aspetto tecnico quindi la scelta dei tamburi la scelta delle pelli il tipo di accordatura questo è un tipo di suono l'altro suono deriva dal fatto di avere in testa un suono che è un'altra cosa molto importante e di riuscire a riprodurre questo suono attraverso quello che abbiamo a disposizione i piedi le mani in particolare le mani le mani bisogna usarle in un certo modo per arrivare ad avere un certo tipo di suono quello che vedo spesso nelle scuole anche nel lavoro che fanno i ragazzi nei conservatori o quello che hanno fatto in passato è che dedicano abbastanza poco tempo hanno dedicato poco tempo allo studio delle mani questo ha a che fare un po' con la vecchia scuola una volta nei conservatori i maestri che insegnavano appunto nell'ambito del corso di percussioni classiche insomma si soffermavano moltissimo sull'aspetto della tecnica e delle mani e questo devo dire che dava i suoi risultati questo fatto di insistere così tanto quindi siamo qui a Napoli e mi permetto di citare un grande maestro di percussioni che è stato Walter Scotti che è stato un grandissimo grandissimo percussionista didatta io ho ancora un suo libro a casa autografato da lui un libro proprio di studi per tamburo quindi sui rulli lui dedicava lui come appunto i maestri delle vecchie generazioni lavoravano molto sulle mani che cosa succedeva quando appunto si soffermavano così tanto con gli allievi che poi gli allievi alla fine riuscivano ad avere delle buone mani avere delle buone mani significa in generale riuscire poi a produrre un buon suono avere delle mani che non funzionano bene non è solo un problema legato alla tecnica ma proprio alla qualità del suono quindi il tamburo in orchestra sinfonica necessita proprio di una pulizia di un tocco speciale che viene dallo studio del tamburo fatto in un certo modo e questo ci garantisce appunto un tipo di suono perché certe volte ascoltiamo e magari trascriviamo anche dei soli cioè molti ragazzi lo fanno io personalmente non l'ho mai fatto in vita mia però ho assimilato il suono attraverso altre cose però chi trascrive i soli oppure i cosiddetti leaks dai dischi dei vari grandi batteristi poi passa un sacco di tempo ovviamente a trascrivere che è utilissimo per un problema anche legato al fatto di familiarizzare proprio con la scrittura della musica quindi da questo punto di vista è fantastico però una volta trascritto un solo di Tony Williams piuttosto che di Elvin Jones o di Filligio o di chiunque poi bisogna cercare di riprodurre il più possibile quel tipo di suono questo è il lavoro secondo me interessante noi possiamo avere un esercizio che è esattamente lo stesso esercizio che abbiamo trascritto appunto da un disco piuttosto che da una registrazione un live o quello che è ma poi dobbiamo porci il problema di come riprodurre quel tipo di suono ecco io in questo libro spiego un po' di queste cose secondo il mio punto di vista e quindi ritengo che sia una delle cose più importanti nei conservatori in genere eh beh squillano i telefoni giustamente che siamo in diretta tranquillo no panico voglio dire per forza di cose i ragazzi a un certo punto si distraggono dal fatto di ecco lavorare molto sul tamburo e fare determinate cose e dedicare il tempo che ci vuole perché ci vuole parecchio tempo quindi si salta come dire a pie pari questa cosa e si va direttamente nel vivo di certe cose perché sono sicuramente più stimolanti più interessanti di stare a casa e fare i rudiments in realtà i rudiments non sono per niente divertenti se vogliamo almeno è molto difficile farseli diventare ecco divertenti ci sono vari modi per esempio il mio maestro Vincenzo Restuccia studiava il tamburo con la televisione accesa su un canale musicale adesso non so quale e comunque studiava invece di mettere il metronomo lui sentiva la musica uscire si metteva col pad vicino al televisore e suonava questo è uno anche dei sistemi dice no io il metronomo non lo uso perché non è creativo invece sentire la musica eccolo sentire la musica e prendere un disco metterlo come dire sul giradischi o quello che è sul cd giradischi io ancora sto al giradischi e poi suonarci dietro studiando ovviamente facendo uso di rudimenti e facendo una selezione anche abbastanza casuale a volte è uno dei sistemi più creativi di studiare il tamburo ma rimane il fatto grazie Ricordo ma figurati rimane il fatto che comunque bisogna dedicare tempo e questo tempo spesso invece non lo dedichiamo nella maniera giusta allo studio del tamburo e allora che cosa succede che uno dei problemi è proprio la rappresentazione del suono in termini di qualsiasi cosa da un colpo a uno studio per il tamburo a un esercizio a un licks a qualsiasi cosa ci sono tanti modi di creare diciamo dei suoni differenti sulla batteria a volte non consideriamo che tutti questi grandi batteristi se li osserviamo e fortunatamente riusciamo a scoprire queste cose perché adesso abbiamo anche un sacco di video c'è un sacco di materiale che gira sul web su youtube e tanti altri canali e quindi vediamo certe cose che magari prima non avevamo idea di come potessero funzionare proprio a livello di postura a livello di come colpire un tamburo eccetera tutti questi grandi batteristi suonano usando i polsi i famosi appunto l'uso dei polsi è molto importante nella batteria nel tamburo ma c'è anche l'avambraccio e c'è anche il braccio tutto quanto tutte queste tre parti diciamo polso avambraccio e braccio danno suoni completamente differenti e a volte uno non ci pensa uno suona tutto con i polsi o suona tutto con gli avambracci o suona tutto con le braccia dipende invece c'è sempre un'alternanza di tutte queste tre cose e mi viene a mente appunto Filigio Jones che vedendo i video usa appunto tutte queste tre cose quando deve usare i polsi ottiene un tipo di suono quando deve usare un altro genere e tirar fuori un altro genere di suono sulla batteria usa tutte le braccia addirittura spesso molti colpi singoli che fa usa proprio tutto il braccio con un suono con una risposta di un certo tipo e con una sonorità molto grassa da un punto di vista proprio del suono un suono con molta pancia a volte il polso dà un suono abbastanza più più fino un suono un po' più staccato ma comunque anche invece serve la gestualità il movimento ampio sui tamburi garantisce un tipo di un tipo di suono appunto che è molto utile appunto quando suoniamo quando facciamo i soli eccetera eccetera il suono sui tamburi ma anche il suono sui piatti è la stessa cosa cioè come colpiamo il piatto e qui entriamo appunto in una cosa che ha a che fare con il comping saltando poi dopo magari vi vi chiederò a voi anche la vostra idea il piatto nel jazz è questo risaputo diciamo è veramente il distintivo il biglietto da visita di ognuno di questi grandi batteristi e molti insegnanti di jazz anche in America dove io insomma vado spesso e sono stato spesso e ho avuto confronti e anche incontri con grandi batteristi della storia e anche con dei batteristi più contemporanei diciamo ma che comunque operano nel mondo del jazz manca a dirlo appunto passano tantissimo tempo sullo studio del piatto che è un'altra di quelle cose che se non si fanno nel modo diciamo giusto non garantiscono un tipo di risultato insomma questo è importante nel libro ho cito un sacco di storie e anche di aneddoti ce n'è uno in particolare che riguarda Brian Blade proprio che molti anni molti anni fa quando io ero in giro in America a Boston ero a suonare lì e facevo un concerto nell'auditorium della Berkeley questa famosa scuola e c'è scritto appunto qui nel libro che nel pomeriggio quando sono arrivato per il soundcheck e tutto quanto si sentiva nei corridoi che portavano verso l'auditorium si sentiva da un'aula un piatto che suonava swing ting 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 e poi andavo lì facevo quello che dovevo fare il soundcheck poi tornavo andavo a prendere il caffè nel frattempo sono passate tipo due o tre ore e si sentiva sempre questo piatto uscire da questa stanza dietro la porta a un certo punto non ho resistito allora siccome era sempre quello non c'era non c'era altro non c'era altra traccia del resto della batteria se non appunto il piatto ho aperto questa porta piano piano e ho scoperto che quello che stava lì a lavorare a studiare sul piatto era Brian Blade quando ancora probabilmente studiava in quella scuola ed era molto giovane e era concentratissimo suonando solo il piatto Ride e anni dopo quando ebbe modo di organizzare una rassegna a Roma lui venne a suonare con Joshua Redman Brad Meldau e Christian McBride e allora gli raccontai di questo di questo episodio e lui come ha scritto appunto nel libro dice sì sì a me mi ricordo bisogna lavorare molto sul piatto ho passato tantissimo tempo a lavorare sul piatto Ride per mettere a punto un suono e comunque una cosa che mi garantisse poi un risultato in termini di swing il piatto è un oggetto molto delicato da trattare e ha mille sfumature e qui appunto nella parte dedicata al comping cerco di spiegare diverse di queste sfumature parecchie che sono anche minime appunto sono delle minime sfumature che comunque fanno la differenza da un batterista a un altro batterista quando parliamo di swing spesso lo vediamo rappresentato nei libri oppure con il solito pattern del quarto ottavo puntato sedicesimo tin 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 ok in realtà spiego che ci sono tantissime sfumature all'interno di questo e se andiamo ad ascoltare tutti questi batteristi e qui c'è un'analisi di alcuni di questi batteristi scopriamo che ognuno di loro suona quello che si chiama la skip note qualcuno sa che cosa è la skip note sicuramente no o forse no o forse sì è quella notina che sta subito prima della tin 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 questa titi questa che poi ritorna diciamo all'inizio della battuta questa skip note può essere di tantissimi tipi può essere molto presente può essere molto nascosta può essere più sul sul trentaduesimo può essere più sulla terzina può essere più sul sedicesimo ci sono tanti modi di rappresentare la skip note ed è proprio la skip note che fa capire la differenza che c'è tra il piatto di Bill Higgins piuttosto che il piatto di Art Taylor c'è veramente una differenza quindi è vero che noi lo vediamo rappresentato in quel modo però poi nella realtà ci sono tantissime tipologie di stili del piatto e di skip note differenti a seconda di chi andiamo appunto a prendere in considerazione quando facciamo un'analisi e fare delle analisi sui batteristi è un fatto fondamentale quello che dico appunto qui è di ascoltare molto di cercare di entrare nel suono di quei batteristi il suono significa piatti e tamburi perché sono due strumenti musicali come dice Gio Lovano drums and cymbals sono due cose che stanno nella stessa famiglia ma che sono due strumenti musicali uno è fatto di legno di legno e di pelli l'altro è una cosa di metallo che vibra c'è un suono suo queste due cose si devono miscelare bene insieme e devono avere un suono unico che riusciamo ad ottenere attraverso un processo che ha a che fare con la dinamica e le dinamiche che usiamo spesso vedo suonare il piatto in maniera assolutamente come dire fuori controllo uno suona poggia la mano sul piatto e il piatto produce un suono che non è un suono che sta al livello giusto di dove deve stare diciamo in un'ipotetica scala di importanza per quanto mi riguarda è ovvio che il piatto sta al primo posto poi sotto al piatto scendono tutta una serie di altre cose come il charleson il rullante quasi a pari merito e poi la cassa e due livelli di cassa come spiego che sono il livello superiore che è quello diciamo del gioco che c'è tra il rullante e la cassa a livello di domanda risposta il dialogo proprio c'è un asse tra il rullante e la cassa e il livello inferiore invece ha a che fare con quello che spiego nel libro che si chiama il feathering cioè che è quello di appoggiare un suono molto leggero un suono continuo che più o meno diciamo riempie tutta una parte molto bassa col suono a livello di frequenza è che questa cosa serve a stabilizzare il timing serve anche a creare un tipo di suono insieme al contrabbasso come spiego perché stiamo parlando più o meno della stessa frequenza 80-90 Hz quindi comunque questo suono sotto che viaggia proprio in continuazione è una cosa che ho visto fare poi a tutti i grandi batteristi che ho avuto modo di osservare durante la mia dico lunga carriera perché comunque qui c'è una lista di batteristi che ho avuto il piacere e l'onore di vedere suonare dal vivo e molti dei quali li ho visti proprio da dietro quindi spiego che c'è c'è un locale a Roma si chiama Music King dove c'era la possibilità di sedersi dietro alla postazione della batteria questo è stato diciamo forse la più grande lezione per me perché vedere Tony Williams Selvin Jones Max Roach Roy Haynes Billy Higgins Art Taylor Philly Joe da dietro ha significato percepire un tipo di suono che da davanti non è esattamente la stessa cosa e soprattutto anche vedere il lavoro che facevano con i piedi che magari da davanti non si poteva arrivare a capire più di tanto e quindi questa cosa qua è stata la più grande lezione per me proprio vedere e soprattutto fare prendere nella mia testa a notare tutta una serie di cose che poi ho rimesso insieme e dico però quello lo faceva quell'altro faceva così quell'altro faceva così però lo faceva pure quell'altro quell'altro pure e alla fine io ho scritto qua tutte queste impressioni che ho raccolto grazie a questa diciamo grande fortuna che ho avuto di avere sempre molta curiosità e di essere presente prima perché magari mio padre mi portava ai concerti quando ero più piccolo dopo perché comunque ero spinto da questa grande passione di andare ai concerti da solo e quindi giravo frequentavo i vari locali non solo a Roma ma anche qui a Napoli per esempio oppure a Milano insomma i luoghi dove comunque c'era c'era il jazz andavo a sentire i batteristi americani e anche italiani diciamo alcuni dei quali sono anche citati qua quindi comunque mi sono fatto un'idea su tante cose e soprattutto ho cominciato poi a raccogliere tutto questo materiale in anni ma non è che l'ho raccolto annotando l'ho raccolto qui cioè l'ho raccolto qui facendo delle considerazioni fino a che appunto mi è stato appunto chiesto di fare un libro mi è stato proposto devo dire la prima volta come ho detto spesso anche in altre piccole interviste che ho fatto Volontè che è appunto l'editore di questo libro la prima volta probabilmente 20 o 25 anni fa in una fiera a Pesaro non mi ricordo una fiera dei strumenti musicali lo incontrai e mi disse quando lo facciamo sul libro e ho detto sì adesso facciamo fra poco lo facciamo sono passati 25 anni perché comunque è un lavoro impegnativo ma anche un lavoro dove bisogna in qualche modo trovare una formula secondo me bisognava trovare una formula che io non avevo in quel momento perché di fare un libro e di aggiungere un libro didattico a una montagna di libri didattici fantastici che ci sono alcuni dei quali sono assolutamente indispensabili ma molti altri lo sono molto meno ci sono voluti tutti questi anni proprio per elaborare un'idea da mettere appunto sul libro e fare uscire qualcosa che fosse qualcosa di diverso e questo non è facile perché voglio dire descrivere una storia appunto intorno alla batteria rappresentandola attraverso esercizio appunto non è la cosa più facile cioè bisognava trovare una una formula tra virgolette originale ma non è che io ci abbia pensato più di tanto semplicemente ho cominciato a buttare giù delle idee questo grazie anche alfredo romeo che è stato un po' quello che mi ha come dire mi ha lavorato ai fianchi in maniera che appunto io riuscissi a tirar fuori dei concetti e delle cose e le abbiamo scritte le abbiamo registrate lui le ha sbubbinate poi le abbiamo ricontrollate le abbiamo guardate si potrebbe parlare di questo secondo me questo è interessante quest'altro è interessante quindi insieme lui in particolare ha come dicevo appunto messo su carta e sono uscite fuori appunto tutta una serie di cose interessanti che sono raggruppate appunto in capitoli il suono il swing il comping l'aspetto solistico e poi l'appendice didattica ognuno di questi capitoli ha dei sottocapitoli ovviamente quindi io non ho gli occhiali perché a questa età ci vogliono gli occhiali ma non ce l'ho non ci vedo no no grazie cercherò di fare proprio così come fanno quelli che non ci vedono comunque va bene il suono giusto l'impugnatura tutta una serie di cose magari già sentite a volte ma secondo me non è mai troppo diciamo ritornare su certe cose anche l'impostazione ma anche come stare seduti cioè tutta una serie di ragionamenti che ho fatto sempre ovviamente su di me e sempre facendo tesoro di quello che ho visto appunto in giro fare ai grandi batteristi e poi appunto il movimento della mano sul piatto appunto la skip note di cui ho parlato poco fa i tempi veloci poi ci sono dei concetti che hanno a che fare appunto su come contare il tempo che è un'altra cosa spesso dice ma come faccio i ragazzi a scuola come faccio a suonare un solo sulla forma perché i soli possono essere di due tipologie un solo libero molti batteristi usavano fare questo genere di solo cioè quando arrivava il momento loro mi viene in mente Ginger Becker con i Krim e poi dopo andavano via Harry Clapton Jack Bruce e c'era Ginger Becker rimaneva lì e faceva il suo solo di batteria di 25 minuti e la solo di batteria ma questo molto nel pop succedeva nel rock insomma anche Palmer con gli Emerson molto spesso appunto nel mondo che poi faceva non ha solo in generale libero non c'era ecco quello è un tipo di solo così come nel free uno può fare un solo libero fuori dalla forma fuori dal tempo un solo fatto di suoni di colori di suggestioni ci possono essere tanti modi ma uno dei modi invece riconducibili appunto a questo periodo che io tratto nel libro è quello di suonare a tempo e di suonare molto spesso sulla forma sulla forma vuol dire sulla forma che stiamo suonando può essere un blues 12 misure può essere una forma di 32 misure può essere una forma anche diversa a volte troviamo delle forme strane forme irregolari forme dispare con magari di 17 misure piuttosto che di 33 misure o di 11 ci sono molti pezzi nella storia del jazz in generale prendiamo quella forse più semplice da un punto di vista proprio della quantità il blues 12 misure però molto spesso quello che faccio fare anche a scuola è abituarsi a suonare sulla forma 12 misure gli scambi sono più facili tra virgolette fare degli scambi su una forma vuol dire fare scambi di 4 scambi di 8 scambi di 12 sulla forma di blues ma quando diciamo usciamo fuori dall'idea di fare degli scambi appunto con gli altri musicisti quindi 8 4 quello che è diciamo suoniamo un solo sulla forma suoniamo sulle 12 misure e lì la domanda ricorrente è come faccio a non perdermi voglio dire è anche lecita la domanda perché come faccio a sapere che ho fatto 12 misure se non provare a fare tipo contare 1 2 3 4 5 fino a 12 ma non è quella la strada non è quella quindi qui spiego che ci sono delle cose comunque importanti innanzitutto lavorare sulla musica lavorare sui pezzi e imparare a cantare i pezzi posso seguire una linea che è la linea magari del comping del basso oppure immagino la progressione degli accordi di quel pezzo che scorre nella mia testa che mi aiuta ovviamente a capire che sto suonando le prime 8 che si muovono armonicamente in un modo le seconde 8 si muovono più o meno se stiamo parlando di una forma ABA diciamo c'è un bridge c'è una B quindi altre 8 misure che magari vanno da un'altra parte terminicamente e poi si ritorna su un A3 finale e si chiude ecco questi sono degli accorgimenti importanti che bisogna tenere in considerazione cioè nel senso di quello è uno dei sistemi che ci aiutano sicuramente a contare a stare meglio nella forma non possiamo immaginare di contare il tempo 1 2 3 4 5 fino a 12 o fino addirittura a 32 cercando di soprattutto di non farcene accorgere che stiamo contando perché lavorare su 1 2 vuol dire anche suonare in questo modo e quindi e tutto è assolutamente voglio dire è un modo di contare che si percepisce da fuori in realtà noi non dobbiamo immaginare le battute dobbiamo immaginare che all'inizio della forma e questo lo spiego in un capitolo che si chiama l'uno l'uno è proprio il tempo inizia quando parte il pezzo e in quel momento lì diciamo dopo aver fatto un tema un tema può essere appunto un tema di un blues appunto o un tema più lungo sulla forma di una forma canzone quindi 32 misure comunque quando parte il solo poi dopo aver rappresentato il tema io ho sempre in testa appunto questa cosa che boom è l'uno quando finisce il tema la 32esima misura e ricomincia il giro dei soli dalla 33esima misura o quindi da capo per me lì è uno e quell'uno io me lo porto fino alla fine del pezzo e sopra quell'uno lì tutti i musicisti praticamente se considerano lo stesso uno questa è una cosa che può sembrare un po' cervellotica in realtà è molto semplice tutti hanno lo stesso uno in testa viceversa se l'uno non è comune agli altri musicisti succederà che uno suona in marca gli accenti in un certo punto della struttura quell'altro in un altro punto e c'è confusione e non c'è mai questa cosa di dire one two three e va avanti bam e la cosa va avanti e va avanti e va avanti questo è uno dei modi ed è molto importante appunto capire e come si fa si fa perché si studia evidentemente il jazz si studiano certi pezzi che ci interessa suonare anche perché da noi è più frequente appunto lavorare sugli scambi facciamo gli scambi gli scambi sono semplici possiamo fare gli scambi di quattro di otto possiamo fare gli scambi a scalare possiamo fare gli scambi di otto di quattro di due di uno addirittura ma comunque siamo sempre accompagnati da qualcuno che ci sta aiutando in quel modo là perché è più facile contare in quel modo lì ma per esempio una delle cose che gli americani fanno molto spesso e che noi non facciamo è quella di lasciare il batterista da solo a suonare sulla forma dopo aver fatto questo giochetto dei trades come si dice questo l'ho riscontrato quando sono stato appunto in America un bel po' di tempo e ho visto che siccome la batteria è considerata uno strumento musicale come gli altri le responsabilità che un batterista deve avere all'interno di un gruppo sono esattamente le stesse che ha un pianista che ha un sassofonista che ha a che fare con la forma e non solo ritmicamente ma anche armonicamente anche melodicamente deve rispettare un criterio e suona diciamo su una base data una base di accordi su cui suona delle scale e improvvisa come si dice nel momento in cui tutti i musicisti fanno la stessa cosa non si capisce perché il batterista dovrebbe dire facciamo all'italiana ok parte il solo parte un solo aperto e poi il solo finisce nel momento in cui 1, 2, 3, 4 boom e ricomincia no questa cosa gli americani proprio non la considerano e ci vuole un po' per arrivare appunto a capire che non funziona così e quindi tu fai il solo sulla forma e per fare il solo sulla forma devi conoscere la forma e quindi eccolo lì che molti batteristi americani studiano bene il jazz conoscono bene l'armonia conoscono bene il pianoforte si mettono studiano stanno lì compongono fanno tutta una serie di cose che purtroppo in Italia siamo arrivati un po' tardi a fare per fortuna adesso con le scuole questa cosa si sta un po' sistemando ma negli anni in cui ho cominciato a suonare io stesso a suonare io stesso non consideravo queste cose e mi sono trovato spesso spiazzato soprattutto quando ero in America quindi in tempi abbastanza recenti ho avuto problemi a suonare i soli sulla forma in certi casi in certi altri no ma su delle forme strane ho fatto delle figure di merda come si dice perché i musicisti stavano lì mi lasciavano da solo e io facevo il solo però a un certo punto mi perdevo perché non ero abituato a ragionare in quel modo e loro stavano lì aspettavano primo chorus e adesso che succede secondo chorus e mi guardavano così guardavano terzo chorus e non riattaccavano alla fine per pietà poverini a un certo momento dicevano vabbè riattacchiamo perché tanto questo sta suonando fuori dalla forma e non ha capito che forma è quindi queste sono lezioni diciamo tardive importanti però è una delle cose e quindi studiare la forma dei vari brani che fanno parte della letteratura gezzistica e poi i cosiddetti standard vabbè ci sono domande mi farebbe piacere sentire qualcuno prima di andare avanti tutto a posto chi è? Lauretta ma ci sono? chi è? sì no prima di tutto vabbè logicamente inaspettatamente c'è tantissima gente tantissima gente stile drummer's corner senza pubblicità senza niente e vai molto seguita tantissimi amici che ti salutano in particolare tengo a nominare il nostro affezionatissimo maestro Claudio Romano primo timpanista dell'orchestra che è sempre con noi e che ti saluta e gli ha fatto molto piacere che hai nominato Enzo Restuccia una domanda te la faccio io ma ti ricordi quando siamo andati a vedere a Roma Tony Williams con V-Stop 2 e mi ricordo che arrivavano degli schiaffi proprio il suono lì dove sta un teatro tenda da qualche parte no era il teatro teatro olimpico dove era? un teatro al centro di Roma non mi ricordo era V-SOP 2 fantastico V-S-O-P mi ricordo il suono di Tony Williams che era pazzesco che ricorda molto questa cosa bravo ti chiedono degli assoli vabbè ti mando questa cosa che? chiedono degli assoli? arriveranno domande chiedono gli assoli? chiedono gli assoli c'è una domanda qua un disco? ecco me l'hai chiamata visto che stiamo in diretta e casomai non sento le domande la ripeto io allora lui mi ha chiesto di consigliare un libro utile per il jazz un libro diciamo che parla di jazz un libro basilare ce ne sono diversi a parte questo no allora un libro che parli della forma di queste cose qui non c'è non c'è bravo quello è un lavoro che tu fai proprio ascoltando la musica non c'è nessun libro che ti spiega come lavorare sulla forma dei brani perché è una cosa fondamentale Gincepe fantastico ecco quello serve per comunque entrare un po' in quello che è guarda caso poi sì lui ha fatto questo metodo incredibile che ancora oggi diciamo regge nel tempo è un libro che si basa sulla coordinazione e sull'indipendenza applicata allo stile bebop praticamente no? cioè quello che è il fraseggio della mano sinistra della cassa è tutto quello che succede appunto quando sentiamo accompagnare i batteristi e Cebbium ha fatto un lavoro veramente greggio così come molti molti anni dopo anche John Raleigh ha fatto un libro molto interessante sul bebop che si chiama appunto Beyond the Bob Drumming cioè cosa c'è dietro alla batteria bop ma nessuno di questi libri più di tanto parla della forma parla dell'approccio che un batterista deve avere esatto quindi quale dici questo sì cioè questo a parte tutto devi a questa no ma io so ma lo firmo quello mi sembra il minimo ripeto quando all'inizio ho detto spesso ci sono delle cose anche di concetti apparentemente molto semplici questo sembra un concetto semplice che però nessun libro voglio dire tira fuori come e non non se ne parla appunto come il fatto del suono il suono può essere sbagliato e uno si può portare dietro un suono sbagliato solo perché magari non sa come accordare la batteria io sto sempre parlando della batteria jazz con un suono diciamo che ci interessa appunto e che tratta questo periodo storico che va diciamo dagli anni 40 ho tagliato la prima parte ecco la parte dello swing la parte degli anni 30 eccetera eccetera partendo direttamente dal bop perché poi comunque da lì che più o meno si è formato tutto il vocabolario della batteria jazz moderna e sono arrivato fino alla fine degli anni 70 quindi spesso uno non sa cosa deve fare per tirar fuori un suono a livello tecnico poi ci sta il problema delle mani appunto che suono produci avendo avuto una buona scuola di tamburo e avendo avuto delle buone mani che sanno riprodurre un suono in maniera poi dopo adesso vi faccio un esempio su questa cosa del suono Leopoldo diceva ti ricordi quando abbiamo visto Tony Williams Tony Williams era straordinario ma quante persone poi si sono soffermate sul fatto del suo suono piuttosto che invece rimanere sbalorditi per le cose che faceva tecnicamente ma anche Cobham anche tutti questi batteristi prima almeno quello che io avverto è la qualità del suono prendiamo Steve Gadd della batteria diciamo più recente è un suono è un suono inimitabile unico io l'ho potuto tra l'altro verificare qui ci sono degli esempi che faccio proprio sul suono di Gadd e di altri ho suonato spesso sugli stessi palchi di Gadd prima di lui l'ho incontrato diverse volte almeno dieci volte nella mia carriera a parte ho anche organizzato una sua masterclass molti anni fa a Roma ma quello che spiego qua nel libro è la cosa curiosa è successo con lui è successo con Vinnie con l'aiuta per esempio io avevo uno studio a Roma dove Vinnie con l'aiuta è venuto a fare un disco c'era la batteria montata di Vinnie con l'aiuta quando lui non c'era la mattina prima di cominciare la session io andavo in studio mi sedevo dietro a questa batteria di Vinnie con l'aiuta e suonavo così come succedeva con la batteria di Gadd suonavo e dicevo ma che brutto suono che brutto strano suono che esce da lì e poi come spiego qua nel libro invece poi quando è arrivato con l'aiuta io stavo in regia ad ascoltare quello che usciva fuori nella registrazione e quello che veniva riprodotto dalle casse ma non per era proprio il suono suo cioè c'era una qualità pazzesca c'era proprio un professionista che ha un controllo del suono incredibile la stessa cosa Gadd Gadd era strano con queste pinstripe questo rullante con il cerchietto intorno questo suono a panettone grosso in realtà poi quando lui suonava io stavo sotto al palco mi arrivava il suono che si sentiva nei dischi benché fosse amplificato in un luogo o in un teatro comunque arrivava il suono di Steve Gadd per non parlare appunto del suono di Tony Williams era un suono incredibilmente personale se andiamo a vedere come produceva quel suono Tony Williams vediamo che c'è un lavoro di braccia un lavoro di polsi come dicevo di avambraccio di tante cose lui ha studiato con Alan Dawson che è stato uno dei più grandi batteristi di jazz e diventato poi uno dei più grandi docenti di batteria Tony Williams aveva un meraviglioso suono già all'inizio c'è un disco che faccio ascoltare sempre che è un disco di Andrew Hill dove c'è lui Eric Dolphy lo faccio sentire a scuola come tanti dischi faccio sentire a scuola perché è importante entrare nel suono adesso al di là dei dischi famosi 4 & More i dischi live con Miles Davis eccetera ma ci sono dei dischi insospettabili come appunto questo di Andrew Hill così come un disco di Eric Dolphy famosissimo che si chiama Out to Lunch dove c'è una qualità del suono di Tony Williams e ai tempi si parla di Tony Williams quando aveva 18, 19, 20 anni aveva già una qualità straordinaria il suo piatto famosissimo quella è una questione di suono ha ogli a dire il piatto di Tony Williams è un piatto speciale no è un piatto sicuramente molto unico parlo del piatto che lui usa in Nefertiti e in quei dischi di Miles Davis era un K Zillian da 22 hanno provato e stanno continuando a provare a ricreare quel tipo di suono ma non ci si arriverà mai a fare quel suono perché era questo il suono Tony Williams suonava con delle bacchette molto grandi inaspettatamente grandi veramente esagerate e le hanno riprodotte recentemente queste bacchette io ho le originali quelle marchiate Gretsch degli anni primissimi anni 70 ancora quelle con la scrittina verde sono praticamente delle clave non sono delle bacchette sono delle bacchette che da sole fanno un suono esagerato e lui suonava molto forte viceversa Elvin Jones aveva delle bacchette molto più fine e aveva un tipo di suono assolutamente meraviglioso ma non aveva a che fare con la bacchetta pesante Tony Williams suonava con quel incipit lì era un batterista che poi soprattutto nella fase finale voleva essere un batterista rock aveva in testa un modo e uno stile molto più vicino al rock che al batterista di jazz che sentiamo nei dischi degli anni 60 Elvin Jones ha sempre avuto il suo suono che è quello lì che aveva con Coltrane e ce l'ha avuto poi tutta la vita quel suono lì ha solamente ampliato il suo set con due tom e due timpani una volta suonava un tom e un timpano stessa cosa per Tony Williams Elvin suonava con delle bacchette con delle sette A Gretsch pure quelle lì che io ho perché fortunatamente posseggo una batteria di Elvin Jones questa è abbastanza famosa questa storia comunque e insieme a questa batteria di Elvin Jones ancora con tutte le custodie tutte le pelli originali con gli schizzi di sangue sopra c'ho tutto ancora c'erano pure due paia di bacchette dentro a questa custodia che ce l'ho ancora custodite gelosissimamente le bacchette usate e sono delle Gretsch 7A molto più corte delle bacchette normali e abbastanza fine ciò nonostante l'energia il suono che esce fuori da Elvin Jones è un suono potentissimo cioè potente non in termini di volume ma in termini proprio di dinamica di energia che è un'altra cosa importantissima che spiego qua la dinamica non vuol dire suonare forte vuol dire avere un'energia speciale nel suono una qualità andando per esempio sempre sui batteristi di jazz con un suono assolutamente unico mi viene in mente vabbè Billy Higgins suonava con la sua energia con un suono meraviglioso un suono molto vicino al suono di un pianoforte cioè proprio aveva un'accordatura sulla batteria di cui io parlo qua ma anche riconoscibilissimo un suono unico Blackie c'è un suono ognuno di loro un suono incredibile riconoscibilissimo Philly Joe un suono come lo producevano questo suono attraverso una serie di cose tra cui una molto importante che sta qui che si chiama lo snap di cui nessuno sa niente che cos'è lo snap è come colpire il tamburo soprattutto il tamburo il rullante lo snap si può usare anche su altri tamburi ma quello fa anche la differenza a questo punto vi faccio sentire appunto come può cambiare il suono usando una tecnica piuttosto che un'altra mazza che organizzazione i microfoni sparsi ovunque ecco questa cosa qua che sto per fare è una cosa apparentemente così bisogna un attimo capirla questa ha a che fare con tante cose ma soprattutto con proprio il suono del tamburo quando sentiamo suonare certi batteristi R. Taylor Philly Joe Kenny Clark tutto viene da Kenny Clark che è stato diciamo proprio il capostipite di quello stile e l'inventore proprio del vocabolario bebop da cui poi tutti quanti hanno attinto sicuramente Max Roach Philly Joe e tanta gente ha appreso da da Kenny Clark è quello che diciamo è stato il batterista più importante nel periodo della musica più importante che ha cambiato il suono del jazz che appunto il bebop che tutto questo succedeva alla fine degli anni 40 e perché parliamo tanto di vocabolario questo vocabolario deriva dal fatto di aver lavorato sulla musica di quel periodo e Kenny Clark suonando con Charlie Parker con Bud Powell con Dizzy Gillespie con Fazz Navarro con questi grandi musicisti del bop che scrivevano una musica molto ritmica e molto più veloce di quella che erano abituati a fare in quegli anni da lì estrapolavano cellule ritmiche e le come dire riproducevano attraverso la batteria creando non voglio dire tutto ma una larghissima parte del vocabolario jazz che è molto importante che è un'altra cosa di cui tratto appunto nel libro tornando al suono lo snap è come colpire il tamburo quando sentiamo accompagnare Art Taylor o Philly Joe innanzitutto dobbiamo imparare ad ascoltare e separare le cose che ci interessano questa è un'altra cosa di cui parlo e che ritengo una delle più importanti nel libro imparare ad ascoltare la musica perché noi parliamo della batteria ascoltiamo solo quella poi quello che c'è intorno molto spesso lo mettiamo da parte e non lo consideriamo ma la batteria ha un rapporto con tanti strumenti a partire da quelli della sezione ritmica che sono il contrabbasso e quindi si parla spesso sempre la batteria e il contrabbasso come sezione ritmica in realtà il pianoforte è uno strumento che fa parte della sezione ritmica così come la batteria e il contrabbasso che interagisce moltissimo con la batteria molto di più di quello che uno possa immaginare mentre il contrabbasso è un pilastro che sta al centro tra questi due di questi due strumenti musicali che hanno un dialogo continuo basti solo pensare appunto a l'utilizzo della mano sinistra del batterista mentre accompagna e l'utilizzo della mano sinistra del pianista mentre accompagna o addirittura mentre fai i soli fanno esattamente la stessa cosa tutti quegli accenti diciamo che stanno fuori appunto dal piatto che comunque è la cosa che viaggia e che è esente da tutto il resto cioè una cosa che sta lì ed è voglio dire pezzo dopo pezzo svolge il suo lavoro in termini proprio di di un qualcosa che c'è nell'aria che è sempre quella ed è sempre costante ed è sempre uguale quello che succede è un dialogo infatti rispetto a a quello che succede intorno al piatto che si può definire in certi casi non so se avete mai sentito comunque questa cosa tipo one voice comping two voice comping three voice comping e four voice comping questo è un concetto molto importante i batteristi fino a quel periodo suonavano un two voice comping che cosa vuol dire il two voice comping vuol dire il piatto suona un pattern il Charleston suona un pattern che è il due e il quattro il rullante suona una voce che appunto si chiama il one voice comping premesso che la cassa come dicevo prima svolge un lavoro sotterraneo con questa cosa che si chiama il comping appunto che purtroppo voi non potete vedere ma cercherò di spiegarvelo però diciamo che fino a quel momento one voice two voice comping era il massimo che i batteristi facevano a un certo punto quando diciamo c'è il passaggio in una fase più moderna dove la batteria assume un ruolo decisamente diverso è perché i batteristi cominciano a suonare il three voice comping e addirittura verso la fase finale il four voice comping quindi i batteristi come Roy Haynes stesso che è stato probabilmente l'inventore di questa cosa qua e poi Jack Dejeanette e poi Tony Williams e poi tutta una serie di altri Billy Cobham tanti batteristi suonavano il four voice comping quindi comunque tornando al one voice comping sono quei colpi di rullante che sentiamo stare in mezzo all'accompagnamento durante un pezzo che è questa cosa qua me lo scordo tutti questi colpi qua hanno un'importanza fondamentale nel lavoro dell'accompagnatore cioè diciamo dell'accompagnatore in quel periodo là dell'accompagnatore che suona la batteria e deve perché ogni accento di questi qui è comunque qualcosa che mettiamo come dire in mezzo cioè stiamo regalando qualcosa al gruppo con cui stiamo suonando e dobbiamo fare i conti che ogni colpo che noi produciamo con la mano sinistra va a interferire inevitabilmente con qualcuno parlando della sessione ritmica come dicevo molto spesso con il pianista perché pensate al pianista che suona con la sinistra non riesco a tenere il microfono a fare tutto comunque articola il solo qui la sinistra dà quegli accenti nella mano sinistra del pianista che sono esattamente quelli che diamo noi quindi bisogna fare attenzione stare sempre con le orecchie molto aperte e capire qual è il gioco degli accenti per poi andare su quello che succede davanti i frontliner i sassofonisti i trombettisti anche i chitarristi suonano delle note si riferiscono alle famose strutture che dicevamo prima a delle forme ma producono anche un sacco di ritmo di cose ritmiche oltre che melodiche e che seguono un criterio armonico pensiamo a musicisti iper ritmici sassofonisti come Coltrane già ai tempi andiamo per esempio Joe Anderson è stato forse il più grande di tutti Michael Breaker cioè gente che suonava il timing e suonava le frasi ritmiche facendo veramente la differenza cioè suonavano con un senso del tempo pazzesco producendo un sacco di accenti quindi se non consideriamo pure quello che succede davanti e se seguiamo un solista ma non siamo attenti ai suoi giochi che fa ritmicamente parlando quando andiamo poi a suonare i nostri accenti e il pianista suona i suoi si crea una confusione inevitabile molto spesso perché non c'è attenzione quindi l'ascolto è molto importante quando sentiamo quei dischi tipo me ne viene in mente uno che Bex Groove forse si chiama un disco di Miles Davis e Sonny Rollins dove c'è un pezzo che si chiama Doxy conoscete no? perfetto cito questo pezzo ma ne posso prendere tanti altri però quello che viene fuori da quel pezzo lì è la perfezione del comping e del lavoro degli accenti da parte di tutti quanti quando parte il primo solo che è il solo di Miles e poi parte Rollins subito dopo e poi Ora Silver c'è un una base su cui tutti quanti i solisti suonano che è veramente una cosa perfetta cioè un relax e soprattutto questo senso anche di spazio nella distribuzione degli accenti che è uno dei trucchi principali di questi grandi batteristi spesso come dico anche nel libro quando ascoltiamo e impariamo ad ascoltare bene i dischi scopriremo che ci sono alcune tracce importanti di dischi me ne viene in mente un altro che è Kelly at Midnight è un disco di Winton Kelly in trio Paul Chambers e Philly Joe c'è proprio il blues che suonano dove c'è un solo bellissimo tra l'altro ma quando parte il solo di Winton Kelly dopo aver fatto il tema il lavoro che uno deve fare è ascoltare che cosa fa Philly Joe nella mano sinistra e poi ascoltare anche tutti gli altri cosa fa Winton Kelly con la mano sinistra e cosa fa Paul Chambers in mezzo quali accenti sposta quali accenti non sposta e scopriamo che c'è Philly Joe fa così una volta partito il tempo va avanti e fa il tempo poi partito pardon me riprendo un microfono questo questo è interessante ma questo qui soprattutto apre diciamo a tutta una serie di domande che io mi sono fatto prima di scrivere quello che ho scritto perché succede questo come mai fa quella cosa lì che lascia uno spazio così lungo dove non c'è un colpo di rullante senti solo il piatto e c'è e poi a un certo punto si sente una botta e poi ogni tanto rimette qualche colpo poi rifà delle pause e c'è un lavoro così sapiente dell'uso degli accenti che è una cosa che è quella la chiave secondo me quella è la chiave e lui come tanti altri non c'è un lavoro così intenso nella mano sinistra che va a disturbare perché la batteria disturba volendo può diventare uno strumento di grande disturbo invece quando sentiamo questi batteristi saremo ore a sentirli io sarei ore a sentire Bill Higgins ore a sentire Art Taylor ore a sentire Philly Joe perché è tutto giusto e la cosa che c'è sempre Jimmy Cobb c'è sempre il piatto su tutto la cosa più importante per loro è il piatto e parlando sempre anche con questi grandi batteristi che io cito nel libro alcuni dei quali ho conosciuto e che ho frequentato appunto uno degli ultimi è Albert Tutti che è stato un gigante della batteria che lo è ancora perché fortunatamente ancora suona dopo aver avuto vari problemi comunque ha quel segreto lì cioè ha quella sapienza quando accompagna di rappresentare veramente tutto quello che c'è in virtù del fatto di suonare un piatto meraviglioso che è la cosa più importante quando io ho parlato con lui è venuto a casa mia e gli ho chiesto una lezione a New York e lui è arrivato e dice che cosa posso fare guarda parliamo facciamo il caffè ho fatto un caffè poi un altro dice buono il suo caffè prendiamo un altro un altro caffè poi c'era la batteria si siede che cosa posso fare per te suona c'è una famosa cosa che dice che Elvis Jones dava certe lezioni a volte a volte quasi sempre in cui lui si faceva pagare solamente per sentirlo suonare uno pagava 100 dollari 50 dollari si sedeva lì e lui suonava la batteria e non diceva niente e dice questo è giusto to the heat quando io gli chiedevo gli ho fatto delle domande mirate le cose di spazzo le cose per esempio del suo il beat che c'aveva sul piatto che era un beat diverso da quello che sentivo normalmente appunto ad altri batteristi e lui lì allora ha aperto tutta una cosa su New Orleans sullo stile sulla skip note di un certo tipo sul fatto che lui comunque è appassionato di verner Fournier che è stato il batterista di Ahmad Jamal che suonava un beat diverso infatti Idris Mohamed che suonava un beat che viene da da un'altra parte dell'America non viene da viene da New Orleans è un beat Ed Blackwell Bill Higgins stesso suonavano un beat diverso e qui nel libro io spiego tutte queste differenze ma ritornando appunto alla sapienza con cui lavorare sugli accenti della mano sinistra questo è un fatto assolutamente fondamentale che è veramente la chiave che poi è una cosa semplice ma difficilissima perché bisogna gestirla e bisogna avere consapevolezza di quello che si fa e soprattutto resistere alla tentazione di fare tante cose che rompono le palle alla musica e l'esempio è presto fatto uno si lascia andare e non si rende conto di quello che fa quando accompagna fa questo più o meno una cosa insopportabile 200.000 cose rulli colpi di tamburi che non ci devono stare colpi di piatto crash che non ci deve stare tante cose che sono assolutamente non dico vietate ma qui entriamo in un versante un po' più talebano mi permetto di osservare che questa talebanità a volte serve nel jazz in questo stile sto parlando di questo stile preciso non sto parlando della batteria più moderna dove appunto il four voice comping di cui vi parlerò fra poco dove si riaprono delle porte appunto e certe cose sono lecite ma in quel periodo là che è forse la cosa più difficile della storia del jazz il periodo più difficile per capire proprio il piatto eccetera si lavorava esattamente al contrario di quello che ho fatto io quindi numero uno il piatto non perde mai il beat quindi non si stacca mai la mano dal piatto in quel senso lì quello rimane sempre lì e rimane sempre lì con la stessa figurazione che è questa le variazioni non sono ammesse e quant'altro questo succede nel four voice comping il famoso switch 3, 4, 4, 3 tutte queste cose qui di cui parlano nel libro importantissime per capire un periodo ma prima non succedeva questa cosa quindi togliamolo di mezzo il problema il problema è suonare il piatto col suo beat regolare e essere concentrati a non fare una variazione sul piatto così come Charleston è sempre lì è sempre su 2 e su 4 non c'è un'inversione non si ferma mai questo è sempre e poi ogni tanto arriva un colpo di rullante ma queste sono le due cose fondamentali questa prima di questa e questo a supporto di quell'altra ma questa è la cosa fondamentale di quel segreto che avevano questi batteristi la concentrazione nel non fare le variazioni sul piatto e di rimanere sempre lì e soprattutto di ragionare prima di fare un colpo quindi primo lavorare sul piatto e stare lì e stare super concentrati l'altra cosa che non si fa mai coinvolgere il tom e il timpano i tamburi gravi diciamo col suono grave a parte il rullante nel gioco del comping che vuol dire non fare quello che facciamo sul rullante anche sugli altri tamburi Filigio non lo fa mai Max Roach non lo fa mai quando accompagnano Bill Higgins non lo fa mai io non lo sento fare anche lì si impongono di non fare e c'è una ragione è quello il problema è lasciare lo spazio e lasciare questa tensione sul piatto se noi suoniamo altri tamburi mentre facciamo l'accompagnamento togliamo la tensione al piatto l'interesse va su qualcos'altro invece l'interesse è sempre qua se sentiamo certi dischi come che ne so Kind of Blue dico sempre proviamo a fare questo esperimento sentiamo Jimmy Cobb suonano tutti sopra Miles Coltrane eccetera poi abbassiamo il volume quasi a zero mettiamolo a uno nell'impianto la cosa sparisce tutto l'unica cosa che continua è inesorabile si sente sempre il piatto ma in lontananza c'è sempre questa cosa e questo perché c'è quella quella tensione lì c'è quella tensione quella tensione per suonare il piatto è così importante che veramente quello porta tutto quanto avanti porta la musica avanti tra l'altro Cobb suona un symbol beat completamente diverso da tanti altri e lui suona una skip note quasi nascosta come spiega nel libro che vuol dire che questo è un modo Cobb suona questa cosa qua ma abbassa il movimento sul piatto e non solo lui c'è una serie di batteristi che suonano così e nasconde la skip note e sta molto più è molto più teso il movimento in questo modo qua noi quasi non la sentiamo che cosa esce fuori da quello che ho appena suonato escono fuori i quarti si sentono i quarti che sono alla base dello studio del piatto prima di passare a fare appunto le skip suoniamo i quarti 1 2 1 2 1 2 1 2 usando un movimento diciamo che poi spiego nel libro che ha a che fare con l'up upstroke con il downstroke e queste cose qua ma è importante anche lì capire la differenza eccetera il piatto di Philly Joe e il piatto di Jimmy Cobb che erano diciamo quasi contemporanei ma suonavano un piatto completamente diverso e Cobb suonava molto stretto questo è l'altro questo è Cobb e già qui è un mondo cioè sono due mondi dove funziona questo tipo di piatto chiuso così con la skip note molto nascosta di conseguenza ha anche che tipo di musica stiamo suonando che tipo di brani adesso io faccio un esempio nel libro anzi due due brani uno si chiama Killer Joe è un pezzo di di Benny Golson e un altro si chiama Stolen Moments un pezzo di Oliver Nelson ambe due questi brani hanno un tipo di scrittura con un tipo di swing una percentuale di swing all'interno che è un piatto largo come quello che ho fatto nella prima ipotesi quindi più Philly Joe non funzionerebbe rispetto a quella musica certi blues per esempio necessitano di questa cosa molto più chiusa di questa skip note molto più chiusa però faccio l'esempio per esempio di Killer Joe che è un pezzo che ha un vamp il vamp sarebbe una figurazione obbligata sulla quale è costruito il pezzo e il vamp fa praticamente così e poi c'è il tema che comincia cioè ha proprio un tipo di swing una scrittura dove sopra funziona solamente o almeno funziona al meglio solo questo il senso del quarto quarto che poi c'è quando completiamo questo stile più o meno succede questo esattamente è lì che serve capire dove dobbiamo usare uno stile è un altro stile in certi batteristi non la sentiamo questa cosa perché magari suonano altri brani dove non c'è quella caratteristica nella scrittura tipo che ne so lì non mi viene da di stringere più di tanto è anche un altro tempo un'altra velocità e quindi scelgo l'altra strada piuttosto che quella di suonare così chiuso con la skip note corta o comunque nascosta quindi il suono come dicevo prima è un fatto fondamentale quindi questo snap di cui parlo nel libro è questa cosa più o meno un suono può essere un suono che arriva da qua con una intensità diciamo media ma con un approccio appunto col gesto anche che accompagna questo che colpisce e se ne va e produce un tipo di suono stesso sul rullante invece questo è un tipo di suono che può funzionare per certe cose ma non funziona per tante altre allora la stessa cosa questo questo ha a che fare anche con la cassa se suono la cassa colpisco e vado via ho un tipo di suono evidentemente se suono dentro alla pelle e fermo il suono della pelle usando la pianta del piede e stando più appunto dentro questa cosa ferma il suono e gli dà questa tensione che alla fine di una frase per esempio che vi suona adesso fa la differenza appunto dal livello di interpretazione l'interpretazione è un'altra cosa fondamentale lo sentite no? arriva chiaramente questa cosa qua questo è fondamentale se suoniamo una frase e non usiamo questo criterio di usare lo snap cioè fermare il suono in qualche modo lo snap vuol dire con la mano sinistra usare il pollice che usava Philly Joe Art Taylor soprattutto usavano fermare questa cosa quindi quando sentiamo quel suono così compatto di rullante quando loro fanno e si sente quel colpo lì che sembra un rullante accordato basso con la cordiera lenta eccetera in realtà dipende solo dal fatto che è colpito con lo snap piuttosto che col pollice aperto toccata e fuga come si dice in questo modo è così questo è l'altro questo ha un sustain e questo è fermo quindi facendo una frase prendendola che ne so dal vocabolario appunto di Philly Joe Art Taylor piuttosto che suona in questo modo usando una tecnica piuttosto che l'altra si può definire un brutto suono ma non è quello il suono la stessa cosa usando quell'altro tipo di tecnica diventa quasi in quello di cui parlavo prima appunto entriamo nel suono di questi grandi batteristi e questa è una delle cose che ci fa avvicinare a quel suono lì faccio le stesse cose ma usando la tecnica del suono chiuso e questa è una delle cose grazie troppo buoni in realtà queste cose appunto sono per me fondamentali e ci ho messo tanti anni per arrivare a entrare un po' in questa roba e ancora ci sto mettendo attraverso continuare ad ascoltare e adesso che sono arrivato a un'età della maturità rispetto a prima faccio un lavoro sulla ricerca molto più attento di un tempo quindi sto là mi soffermo sento parlo vedo ascolto vedo i video ascolto quel disco vedo quell'altro insomma e mi faccio delle idee e ho capito che si arriva ad avere certi risultati se si rispettano appunto delle cose che hanno a che fare appunto anche con con questi aspetti aspetto proprio dinamico come colpire come fare tutto viene ovviamente come dicevo dallo studio delle mani avendo studiato bene le mani abbiamo più facilità a capire i vari modi in cui colpire se abbiamo solo un modo i ragazzi a scuola quando fanno una frase la suonano gliela scrivo alla lavagna o quello che è e loro la riproducono guardano lo sticking che è un altro degli aspetti importantissimi lo sticking è fondamentale ci sono degli aneddoti nel libro che racconto sempre che hanno a che fare con queste cose appunto lo sticking e tante altre se lo sticking è sbagliato il suono non esce in quel modo vi faccio un esempio adesso tipico se un ragazzo legge un esercizio tipo quello che sto facendo che è un lix di Philly Joe Jones per esempio ma non mette il condimento giusto come diceva il mio grande maestro Vincenzo Ressuzio devi mettere il condimento in quello che fai perché sennò è una cosa piatta non c'è non c'è il sale il pepe lui diceva sempre di mettere il sale il pepe metti l'olio devi condire il condimento è fondamentale e il condimento per noi significa lavorare sulle dinamiche le oscillazioni dinamiche il suono gli accenti che gli accenti non sono solamente forti e deboli gli accenti sono anche delle vie di mezzo sono dei colpi che non si possono nemmeno troppo definire attraverso diciamo la simbologia l'accento così l'accento così l'accento così sono cose molto variabili e che bisogna però comprendere ascoltando se no non ci arriveremo mai però per dire un esercizio che rivela un po' questa trasformazione da una cosa piatta a una cosa che prende vita e che diventa più verosimile e più diciamo quasi quasi somigliante a quello che è l'originale è questa frase qui si basa su una sorta di double paradido Philly Joe usa molto il double paradido come spiego nel libro e quindi sono due frasi fatte da tre gruppi di tre note la seconda volta e finisce è una frase che si snoda in due battute come avete sentito fatta in questo modo qua suonata senza le stigioni di attento ok al di là dello stigio in due se aprissi il movimento la destra sul piatto e la sinistra sul rullante esce fuori questo è come un disegno swing in realtà è come uno swing in tre quarti ti cin ti 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 in realtà la frase è in quattro quarti ma suonata a gruppi di tre tacata 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 come molti degli esercizi per batteria sono rappresentati in quattro quarti anche se poi dentro uno suona dei gruppi ternari questo qui nella trasformazione diciamo stile filigio esce fuori in questo modo lui l'orchestra lui lo suona lo suona in questo modo apparentemente apparentemente è chiaro partendo da dove siamo partiti è un altro mondo ma che cosa si avverte spesso anche in quelle cose là che è come se non ci fosse come se avvertissimo che non c'è una precisione sufficiente in quella mano sinistra che fa quelle cose quasi sforzando è così che funzionava era così non c'era quella precisione metronomica non c'era una mitraglietta c'era un essere umano che suonava usando una tecnica di polso semmai di avambraccio e a volte anche di braccio ma non c'erano trucchi non c'erano i push pull non c'erano i finger control e tutte quelle robe lì c'era semplicemente dove arrivava la tecnica di tamburo tradizionale sui colpi doppi e singoli e quindi quella sporcizia che si sente in Philly John ma si sente anche in tanti altri batteristi deriva dal fatto che nessuno di loro usava accorgimenti perché in quegli anni non si parlava né di push pull non si parlava di finger control niente di tutto questo loro suonavano il tamburo così come lo spiegavano Wilcoxon così come lo spiegavano Lawrence Stone così come lo spiegava Krupa a volte nel suo metodo quindi usando solo bene gli accenti e usando bene l'upstroke e il downstroke le altre cose quindi quella cosa di è come quando Philly Joe suona si sente questa sinistra che fa i singoli fanno i singoli lui io non ci arrivo a quella velocità sua ma non è che lui più di tanto arriva c'è chi va il doppio quasi di questo che faccio io lui non andava al doppio era più veloce di me sicuramente e uno si chiede lo fa a colpi doppi lo fa a colpi no lo fa a colpi singoli perché si sente che sforza e c'è una cosa che arriva al limite oltre il quale non può andare perché la sua tecnica per quanto fosse fantastica ma non ci arrivava con la tecnica tradizionale e quello faceva la differenza appunto nel suono quello che ho appena fatto usava polsi avambraccio e braccio lui spesso quando lo vediamo usa tutto il braccio quando fa i singoli usa tante braccia tanto tanto il braccio intero avvolta i polsi ma molto il braccio questo è molto importante osservando anche i video e vedendo quello che fa e si sente si percepisce la differenza di suono che c'è tra l'uno e l'altro sono tutte piccole sfumature che fanno parte di di un mondo diciamo della batteria di quel periodo là che ha i suoi segreti all'interno ci sono tutta una serie di piccoli segreti che io in qualche modo ho cercato di raccogliere e di divulgare nient'altro che quello perché mi rendo conto che molte di queste cose che sto dicendo molti non le sanno le cominciano a sapere adesso come i feathering ci sono dei tutorial parlano del feathering ma 8 su 10 ne parlano in modo errato il feathering non è suonare i quarti mentre suoniamo il piatto in questo modo o anche più più piano di così non è questo il senso e invece molto spesso si ah il feathering significa suonare i quarti all'unisono col piatto mettere il piatto fare l'accompagnamento sotto abbiamo questa cosa qua e invece non è così è un mugugno che sta sotto certe volte sta sui quarti certe volte si ferma altre volte come dice Mel Lewis in una bellissima masterclass c'è un video fantastico di due ore la prima cosa di cui parla nella masterclass dice la cosa più importante per la batteria jazz è l'uso della cassa e il fatto di usare il feathering immaginate che voi avete una mano sul cuore il cuore batte e voi sentite con la mano sul cuore qui il cuore che sta battendo quindi forte lo percepite boom 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 adesso immaginate che staccate la mano dal cuore e il cuore continua a battere voi non lo percepite più così direttamente sulla vostra mano ma lui c'è e continua a battere è come se a un certo punto quindi la cassa suonata sotto al posto giusto lui vuole dire quando c'hai la mano staccata continua a esserci ma non la devi percepire così forte come quando hai la mano sul petto viceversa se il questo qui non c'è più vuol dire che sei morto proprio lui dice vuol dire che se il cuore non batte più sei morto non te ne sei accorto è come dire nella batteria se tu suoni il comping e non suoni la cassa sotto stai suonando qualcosa che praticamente è morto è questo sentite che senso di vuoto che c'è sotto ci sono gli accenti faccio le risposte faccio tutto ma non c'è non cammina non c'ha la vita la vita ce l'ha se faccio questa cosa adesso mi fermo e non lo faccio più sentite che vi farò meglio adesso c'è adesso c'è questo è quello che fa ci vedendo questo è quello che fa quindi non gli accenti di risposta faccio dire senza il piatto di risposta adesso faccio il cuore che stai adesso non lo faccio più come lo faccio veniva veniva con la luce faccio veramente nel senso di risposta e non lo faccio non lo faccio più bene questo invece visto che siamo a Napoli faccio una cosa che succede spesso quando parlo di questo se noi immaginiamo molti napoletani sostengono che lo swing sia nato qua in questa città qui e che comunque lo swing e la tarantella siano parenti in realtà se questa cosa qua la suoniamo così forte se noi in contrapposizione a suonare i quarti così forte in maniera così il rullante che fa il lavoro del rullante dove fa le frasi e molte di queste frasi sono dei levari rispetto al battere della cassa quindi succede questo questo si trasforma in tarantella immediatamente sul piatto e per quanto la tarantella sia diciamo patrimonio nazionale non è esattamente questa cosa qua perché c'è troppo troppo il suono diretto dei quarti con la cassa che in contrapposizione danno origine a quel suono là invece la stessa cosa fatta con molta più discrezione iscriviti al nostro canale Grazie a tutti. 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 Ci può aiutare a capire meglio veramente come fare per arrivare a suonare questa musica cercando di sbagliare di meno. Ecco, questo qui mi permetto di dire in modo assolutamente privo di qualsiasi presunzione. Ecco, lo dico perché comunque ci sono, credo, delle cose veramente molto interessanti. Se ci sono delle domande vi prego di interagire. Sì, il libro ce l'ho io, ho diverse copie e lo potete acquistare. Come diceva prima uno dei collaboratori di Leopoldo, se ci fosse qualcuno interessato al libro posso lasciarne delle copie. oppure, oppure, non lo so, dovresti andare ora e allora questa è una pratica fatta in diretta così. E' un po' quanto siamo di tempo noi, quanto siamo quasi a due ore, vogliamo salutarci? No, 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 ma beh, in generale, che dice il grande maestro Leopoldo? Beh, Roberto, noi logicamente saremmo qua a sentirti anche fino a domani mattina. C'è anche ancora tanta gente online, però direi che insomma, compagliatore, facci qualcosa. Senti, una domanda, noi abbiamo avuto tantissime domande logicamente da online. E dimmela qualcuna. Una per esempio che mi sembra molto carina, il tuo uno, cioè entrare nel pezzo ed essere tutt'uno immediatamente col pezzo da subito. Com'è entrare in un brano da subito? Sì, lo spiego, questa è una domanda, giusto? E' una domanda riferita a quella cosa dell'uno che dicevo prima. Come facciamo con lui che deve andare via? Salutiamolo e poi ci contatterà. Puoi aspettare un attimo? Mi tocca, te tocca. Tanto veramente siamo in chiusura, anche perché, ripeto, ci sono tante cose di cui possiamo parlare, però mi rendo conto che... Allora, rispetto all'uno, l'uno che intendevo dire prima, per esempio lo spiego in un esempio legato alla musica improvvisata. Improvvisata quando spiego a scuola cosa vuol dire suonare fuori dalla forma e suonare fuori dalla struttura, suonare, diciamo, una forma priva anche di un, appunto, di una sequenza armonica particolare. Chi faceva uso di questo genere di prassi, appunto, di suonare molto sulle freeform? Quei musicisti come Ornette Coleman, come Dewey Redman, come Don Cherry, quei gruppi senza piano famosissimi che ci sono stati di Bold and New Dreams, a parte il quartetto di Ornette Coleman. Loro avevano un tema di riferimento, spesso era veramente un pretesto, per poi suonare senza un riferimento armonico, perché non c'era il pianoforte, era un gruppo di solito tromba, sax, tromba, sax, contrabbasso, batteria, Ed Blackwell era batterista e poi Billy Higgins, Charlie Eden, quando, so, c'è un tema, è veramente un pretesto, un tema qualsiasi alla Ornette, e qui partivano i soli, quando partiva quell'uno lì, era molto importante, appunto, che tutti quanti avessero lo stesso uno, il solista suonava su, e questa cosa si sente quando i musicisti della ritmica suonano anche, perché non abbiamo un riferimento armonico, non c'è il pianoforte, non c'è una sequenza di accordi prestabilita, c'è semplicemente un'idea di un centro tonale che può essere a scelta dei musicisti, diciamo che in un pezzo, per esempio, che cito nel libro, loro hanno un riferimento di un Do, che può essere un Do addirittura maggiore in certi casi, o un Do alterato in certi altri, quando suona Dewey Redman suona proprio un accordo di Do maggiore, è improvvisa su quello, quindi a parte queste indicazioni, il resto non c'è una griglia che inizia alla battuta 1 e finisce alla battuta 12, se fosse appunto una griglia tipo blues, oppure 1, 32 misure, no, c'è semplicemente un 1 di riferimento, vuol dire che loro si riferiscono a questo, gli accenti che la ritmica porta, in quel caso lì, sono sempre gli stessi, il 2, il 4, il charleston, e il basso suona... Cosa succede qua? Un gioco, diciamo, rischioso, è quello che se l'1 non è per tutti lo stesso 1, ma qualcuno lo fa diventare l'1 e il 3 invece che il 2 e il 4, il beat, capito che voglio dire? Cioè il charleston sa su 2 e il 4, ma può anche essere interpretato 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, in realtà 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Questa è una cosa veramente molto rischiosa che succede molto spesso quando un solista non interpreta lo stesso 1 e quello che succede è che c'è il famoso capputtamento, cioè proprio il capputtamento della ritmica. E il solista che suona su questo produce, diciamo, delle frasi ritmiche. Parlo di, non so, mettiamo che quando parte il solo c'è un sassofonista che suona il tempo e lo suona... E' sempre quello, quello è l'1. L'1 può essere rappresentato anche nell'arco di 16 misure, non è che deve essere per forza ogni volta ogni 4 misure, ogni 8 misure. L'importante è che però quando si arriva là sia comune agli altri. gli altri stanno suonando su quell'1 lì. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se si perde l'attenzione a questa cosa qua, e questo diventa l'1 e il 3, che è la cosa per il jazz proprio che non deve mai succedere. quindi quando io parto con un 1 voi ascoltate il mio comping e sentite come in qualche modo è sempre chiaro dove sto e si capisce qual è il mio ciclo diciamo in cui io sto operando, in quante misure io sto suonando è sempre un ciclo regolare musica sembra una cosa scontata, facile questo è l'uno il senso che tu dai e che non è stabilito non l'abbiamo stabilito insieme allora noi ogni 8 misure dobbiamo fare si deve sentire, tu lo senti anche quando io non lo faccio, perché sto sempre nella direzione giusta non sto mai nel verso in cui mi giro e questa cosa qui come dire, ce la perdiamo sotto no indipendentemente se abbiamo una struttura armonica o non ce l'abbiamo anzi, quando suoniamo appunto senza la forma, come dicevo prima questa è l'unica cosa e questo ci serve anche quando suoniamo sulla forma se io suono un rhythm changes 32 misure eccetera eccetera poi parte il solo di questa cosa qua alle 3 stiamo arrivando diciamo diciamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il senso del tempo e il tempo è quello. Quando c'è confusione sotto e un solista ci deve suonare sopra questa confusione qua, sta malissimo, sta a disagio e non lo chiamerà mai a quel batterista lì. Chiamano quello che sotto gli fa quel tipo di servizio. Che è quello di suonare chiaro, limpido, musicale, ma sempre nella stessa direzione. Questo è un altro fatto molto importante di cui si parla anche nel libro. Che dici Leopoldo? Ci salutiamo. Mi intrometto in questa cosa bellissima prima di tutto. Per noi è stata una fortuna averti nuovo qua. Penso che abbiamo fatto un record perché tra il Drummers Corner e oggi abbiamo fatto circa tre ore e mezza insieme. Ma è comunque poco per tutte le cose che ha da dire Roberto che tra l'altro è un didatta molto seguito. Tu insegni al Conservatorio di? All'Aquila. All'Aquila. E poi mi chiedevano ma a Roma insegni? No. A Roma non insegni. Quindi chi vuole studiare con Roberto deve scriversi al Conservatorio. O comprare il libro intanto. Il libro dove si compra? Perché anche questa è la domanda. Il libro si trova fortunatamente, è distribuito devo dire molto bene, si trova in rete, da Amazon sicuramente, Feltrinelli, si trova in molti negozi di strumenti musicali che hanno anche il reparto, quindi non sei tu perché tu non hai il reparto editoriale, alcuni negozi di strumenti che hanno il reparto editoriale ma soprattutto anche sul web, principalmente su Amazon, Feltrinelli e da Birdland anche che è ovviamente molto fornito, da sempre un punto di riferimento per la didattica a Milano. Insomma si trova, si trova, devo dire perché lo chiedono spesso ma perché non leggono bene poi, l'abbiamo detto più volte dove si può trovare e comunque è reperibilissimo. Perfetto. E poi tra l'altro Roberto sta facendo un bellissimo giro che ha toccato già molte scuole e dei negozi, per esempio è stato da mio amico Dario Fogliato da Merula, in tantissime scuole e il tour prosegue, quindi potete seguire sulla pagina di Roberto quelle che sono le prossime date, sperando che possiate andare in presenza a seguirlo perché è una cosa bella e poi appunto ogni volta usciranno cose nuove e diverse. e noi ci è venuto voglia di fare i prossimi Drummers Corner in presenza, visto che ormai si può fare quando faremo i prossimi incontri con i batteristi e ce ne sono già in programma, faremo in modo da avere degli ospiti perché è stato bello comunque riavere qua delle persone in presenza. Quindi grazie a tutti quanti voi che siete intervenuti, grazie alle tantissime persone che ci hanno seguito in diretta, questa veramente è stata una cosa che non pensavamo essendo stata non pubblicata, non prevista e comunque vi ricordiamo che questo seminario sarà poi pubblicato su una pagina YouTube dove trovate anche tutti gli altri incontri che abbiamo fatto, compreso quello bellissimo Roberto, voglio ancora ricordare con dei musicisti che l'hanno accompagnato e ci vediamo presto su questi schermi. Grazie ancora a tutti quelli che sono intervenuti e ancora grazie a Leopoldo, a tutti i ragazzi che ovviamente lavorano per la realizzazione di questi bellissimi streaming. Grazie a voi. Grazie.